con un filato acrilico e l'uncinetto numero 3 e mezzo avviamo un anello magico di 6 maglie basse realizzate le 6 maglie basse tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio con un filato di diverso colore segniamo l'inizio del giro e continuiamo lavorando 2 maglie basse su ogni punto sottostante fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse nel giro realizzate le 12 maglie basse continuiamo con una maglia bassa un aumento una maglia bassa un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse nel giro terminato il giro con 18 maglie basse continuiamo con 2 maglie basse un aumento 2 maglie basse un aumento fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse nel giro terminato il giro con 24 maglie basse ripetiamo 24 maglie basse in costa ossia prendendo solo la parte posteriore del punto terminato il giro con 24 maglie basse in costa ripetiamo 24 maglie basse normali per i prossimi due giri terminati anche i due giri di 24 maglie basse continuiamo con 3 maglie basse un aumento 3 maglie per un totale di 30 maglie basse nel giro terminato il giro con 30 maglie basse continuiamo con 4 maglie basse un aumento 4 maglie basse un aumento fino alla fine del giro per un totale di 36 maglie basse nel giro Terminato il giro con 36 maglie basse, continuiamo con 5 maglie basse, 1 aumento, 5 maglie basse, 1 aumento, fino alla fine del giro per un totale di 42 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 42 maglie basse, ripetiamo 42 maglie basse per i prossimi 2 giri. Terminati i 2 giri di 42 maglie basse, continuiamo con 6 maglie basse, 1 aumento, 6 maglie basse, 1 aumento, fino alla fine del giro per un totale di 48 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 48 maglie basse, ripetiamo 48 maglie basse per i prossimi 3 giri. Terminati anche i 3 giri di 48 maglie basse, possiamo appianare il nostro lavoro con 2 maglie bassissime, tagliare il filo e chiudere il lavoro. Con il filato bianco avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Realizzate le 6 maglie basse, tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. Utilizziamo un filo di diverso colore per segnare l'inizio di ogni giro. Continuiamo lavorando 2 maglie basse su ogni punto sottostante fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse e realizziamo queste 12 maglie basse in costa, ossia prendendo solo la parte posteriore del punto. Vi dico già in anticipo che tutti i giri saranno in costa. Terminato il giro con 12 maglie basse in costa, continuiamo con 1 maglia bassa, 1 aumento, 1 maglia bassa, 1 aumento, fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse nel giro, ricordandovi di lavorarle sempre in costa. Terminato il giro con 18 maglie basse in costa, continuiamo con 2 maglie basse, 1 aumento, 2 maglie basse, 1 aumento, fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse in costa. Terminato il giro con 24 maglie basse in costa, continuiamo con 3 maglie basse, 1 aumento, 3 maglie basse, 1 aumento, fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse in costa. Terminato il giro con 30 maglie basse in costa, continuiamo con 4 maglie basse, 1 aumento, 4 maglie basse, 1 aumento, fino alla fine del giro per un totale di 36 maglie basse in costa nel giro. Terminato il giro con 36 maglie basse, 1 aumento, 5 maglie basse, 1 aumento, fino alla fine del giro per un totale di 42 maglie basse in costa nel giro. Terminato il giro con 42 maglie basse in costa, continuiamo lavorando 6 maglie basse, 1 aumento, 6 maglie basse, 1 aumento, fino alla fine del giro per un totale di 48 maglie basse in costa nel giro. Terminato il giro con 48 maglie basse in costa, ripetiamo 48 maglie basse in costa per i prossimi 2 giri. Terminati anche i due giri di 48 maglie basse in costa, appianiamo il nostro lavoro con 2 maglie bassissime e a questo punto tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro. Salziamo il giro con 40 maglie base. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.